Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà del 2024. Abbiamo la carta della luna, amici del Sagittario. Periodo probabilmente un po' melanconico, con dei ricordi che ritornano a galla, potrebbero essere anche dei pensieri che ritornano, come delle emozioni, una situazione magari dinamiche di comportamento, piuttosto che una persona. Questa potrebbe essere una persona, ragazzi, potrebbe essere un'unione, un due di coppe. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Abbiamo un 7 di pentacoli, un asso di coppe, re di coppe, 10 di spade, 7 di bastoni, il matto e un asso di bastoni. Allora ragazzi, partiamo da questo 7 di pentacoli, è come se ci fosse una sorta di attesa. Prima andiamo a vedere un po' tutte le carte, poi vi do le indicazioni specifiche settore per settore, quindi single coppie e tutto quanto, ok? Allora, partiamo da questo 7 di pentacoli che è una carta appunto di attesa, di pazienza, di qualcuno che ha già fatto un lavoro. È una carta di anche cure in effetti. Vedete come la persona sta, diciamo, coprendo la pianta, la sta... è come se stesse mandando energia. Adesso non so se è perché la carta è consumata o se veramente... mi sembra che come esca un raggio di luce dalla mano, come per dire do energia alla pianta, do energia a quello che si è seminato. Abbiamo un fantastico asso di coppe, tra l'altro c'è anche un asso di bastoni qua, quindi nuovi inizi e potrebbero essere fortemente inizi emotivi, quindi se siete single potrebbe nascere un nuovo amore, un nuovo... una nuova relazione proprio. Devo dire il radico, per contrario mi lascia un po' perplessa, come se mancasse una sorta di immaturità emotiva, di stabilità emotiva. Non so perché ma per qualcuno come la sensazione che faccia riferimento a un padre che non c'è più, perché avviano la luna, è come se ci fossero dei sentimenti di nostalgia che tornano. Poi abbiamo anche questo dieci di spade che è una carta di chiusura cicli, è una carta che vi dice che ragazzi qua è finito il tempo della sofferenza, ok? Si chiude un ciclo, si chiudono, può anche essere che si chiuda con qualche relazione in particolare. Andiamo poi a vedere tutto meglio con i minitarock. Ripartiamo dal sette di pentacoli. Abbiamo la sacerdotessa, è un cavaliere di coppe. Come dire? Abbiamo il cavaliere di coppe, l'asso di coppe. C'è una sorta di offerta, c'è un movimento. Non necessariamente deve essere da parte di qualcun altro. C'è nel senso, di solito quando c'è cavaliere di coppe, sì, è qualcun altro che fa l'offerta. Potrebbe anche essere qualcosa che fate voi. Datemi una carta per la sacerdotessa. quadro di spade. Potrebbe arrivarvi un aiuto ragazzi. Adesso poi lo andiamo a vedere dopo, ripeto, prima tiro giù tutte le carte e poi vi do le indicazioni settore per settore. ho come la sensazione qui che qualcuno potrebbe aver bisogno di aiuto e potreste trovare chi ve lo dà. O se fosse qualcun altro che ha bisogno di aiuto è come se voi andaste a dare aiuto a questa persona. Ma lo vediamo poi dopo. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Dieci di coppe! Wow! Allora, siccome è dall'inizio della lettura che ce l'ho in testa questa cosa, ve lo dico, qualcuno qui rimarrà incinta o addirittura potrebbe essere che nel 2024 abbiate la scadenza per il parto. perché c'è proprio la famiglia completa, la nascita, ok? Qui c'è l'attesa, quindi è proprio come se ci fosse. Se non fosse quello il caso, nel senso se non siete in età da figli, piuttosto che non ne volete più o non ne volete proprio, è un nuovo progetto. Può essere un nuovo progetto all'interno di un gruppo, il fatto che ci si sente partecipi di un gruppo. Sento che è qualcosa di nuovo comunque perché c'è sia l'asso di coppe che il fante di pentacoli. Però è come se ci fosse una nuova famiglia, una nuova relazione, potrebbe anche essere. Più una nuova famiglia, lo sento. Però andiamo a vedere il radicoppe. Abbiamo un otto di pentacoli e un carro al contrario. Ho la sensazione che potrebbe esserci qualche vuoto emotivo, ragazzi, dovuto al lavoro. Cioè, nel senso che o qualcuno si deve spostare per lavoro o per una carenza di lavoro, perché qualcuno deve cambiare lavoro deve cambiare lavoro. Se non è il lavoro può essere un qualche cosa riferito ad un progetto. Va bene, andiamo a vedere questo dieci di spade. Wow, matto! Eh, carta di chiusura, carta di inizi, bellissimo. E regina di coppe. Di nuovo, una carta di... cioè, ragazzi, carta... il matto fa riferimento ai bambini e qui la regina di coppe è incinta. Ho proprio come la sensazione che... quindi fate attenzione, perché se non è quello che volete, i tempi saranno molto 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 fecondi, amici del sagittario. Se non fosse un bambino, anche se mi viene da tutte le parti, perché ce l'ho di nuovo anche qui, però va bene. È un progetto, ok? Un progetto, una nuova idea, una nuova emozione, un nuovo... anche un nuovo nucleo familiare che nasce, potrebbe essere. Comunque, è qualcosa che sboccia dappertutto. Sento amore che sboccia. Andiamo a vedere il sette di Bassoni. Abbiamo un 9 di Coppe e un 3 di Coppe. Allora, il sette di Bassoni è una carta che mi indica che non vi farete distrarre da niente e da nessuno. È come se vi godeste quello che avete. Ci sarà da festeggiare qualche cosa, e vi dico. Qui qualche festeggiamento c'è. Di nuovo, sono tre energie. Madre, padre, figlio. Anche qui, non lo so, sento com'è. Questo progetto che vi assorbirà, che vi farà di nuovo esplodere il cuore, che vi darà l'entusiasmo, la grinta, la passione, la dinamicità. Andiamo a vedere il matto. È un po' come se curaste il bambino interno. Adesso poi cerchiamo di capire questa luna perché è arrivata. Perché sì, potrebbe essere effettivamente qualcuno che arriva dal passato, che vi fa un'offerta, una proposta. Perché anche qui comunque ho il giudizio. Ho la sensazione che vi butterete in qualche cosa di nuovo con qualcuno del passato. E vi dico, si tratta fortissimamente di un bambino. Però, se non risuona così, può essere un progetto, una nuova avventura, un qualche tipo di sperimentazione di vita alla quale non avete mai partecipato. Sento comunque appagamento e apertura del cuore dappertutto. Lo sento proprio... Mi sento carica, come vi posso dire? Mi sento proprio come se avessi il cuore che palpita, che è accelerato. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cinque di pentacoli e asso di bastoni nuovamente. Nuovi inizi, ragazzi. Allora, ripartiamo da capo. Partiamo dalle coppie, da chi ha già una relazione. Come vi ho detto, qui si va al passo successivo. Potrebbe essere il primo figlio. Sento più il primo che il secondo, però per qualcuno può anche risonare come il secondo figlio. Sento un nuovo amore, un nuovo livello della relazione. È come se si andasse al passo successivo, se si facesse qualche gradino in più. Vi dirò che per qualcuno, tra il tre di coppe e i due matti e l'asso di bastoni, si può parlare di una relazione extraconiugale o una passione extraconiugale. È come se ci fosse quel momento nel prossimo semestre dove ci sarà un po' di sale e un po' di pepe all'esterno della relazione. Ma non vi nego che farà bene anche alla relazione. Se siete single, preparatevi perché le occasioni veramente non mancheranno. Starà a voi più che tutto buttarvi nella mischia. Accogliere e accettare le persone. Accogliere e accettare le persone non vuol dire prendere tutto quello che arriva. Chiaramente bisogna selezionare, però bisogna, il mio senso qui, per come la intendo io, è rimaniamo aperti a quello che l'universo, la vita ci offre. Se siete single, ma avete qualcuno in testa, diciamo che le dinamiche potrebbero cambiare meglio. Per quello che riguarda la famiglia, quindi chi ha una famiglia, vi dico che c'è come una fase di stasi che ad un certo punto cambia. Potrebbe essere dovuto al fatto, tipo, o a un cambio di lavoro, una perdita di lavoro, piuttosto che un investimento malfatto, o delle spese impreviste. Ci potrebbe essere, ma un momentino, proprio piccolo, di fermo, dove vi chiedete, ok, adesso come faccio per andare avanti fondamentalmente, ma è proprio un momentino. Arriva poi comunque, anche perché avete l'associato testa e l'asso di coppe, arriva l'idea, arriva la canalizzazione per riuscire a far fronte a questa situazione. Se, allora, coppie l'ho detto, single l'ho detto, la famiglia l'ho detto, i figli l'ho detto, ah, i figli l'hanno detto questo, se per caso avete già figli grandi, ipotesi, devo dire che vedo un po' di indecisione da parte loro su come muoversi, soprattutto se devono o intraprendere un nuovo percorso di studi o intraprendere un percorso lavorativo. Li vedo un po' tentennanti, un po' titubanti, però, ecco, non siate troppo accondiscendenti, non siate troppo flessibili, cioè, come vi posso dire, non giustificateli troppo, perché ad un certo punto dovranno prendere una decisione di benedetti ragazzi, se iniziare a lavorare, se iniziare a studiare, che percorso di studi fare, che percorso di lavoro, intraprendere, che, non lo so, carriera, voler seguire, ecco. Per quello che riguarda gli amici, vi dico che, soprattutto se siete single, ci potrebbe essere una persona, un amico di un amico, un amico di un'amica, insomma, con la quale potrebbe esserci uno sviluppo interessante. Devo dire che, per qualcuno, potrebbe anche essere una persona che, appunto, già avevate visto in passato, oppure una persona che, in qualche modo, è legata a voi a livello animico. Vi dico, è un periodo di nuovi inizi. Qui terminiamo con l'asso di bastoni. Quindi, c'è questa nuova passione, questa nuova nascita, questa nuova idea, un nuovo progetto, una nuova relazione, con tanta chimica, devo dire. Ecco, abbiamo anche un 5 di denari. Stavo cercando di ignorarlo, in un certo senso, però non posso. Allora, datemi un'altra carta per questo 5 di denari. 10 di pentacoli. Sì, ho come l'idea che è qualcosa a livello materiale, concreto, che potrebbe darvi più da pensare, ma vi avevo già detto che l'aiuto comunque arriva. Però fate attenzione, più che tutto, se dovete effettuare spese per la casa, per i nuovi hobby, per, diciamo, dei viaggi, delle gite familiari, fate attenzione a quanto spendete, perché se sono soldi che potreste risparmiare, ho la sensazione che sia meglio risparmiarli. Perché con questo 5 di pentacoli ci potrebbe essere, appunto, qualche spesa imprevista. Non so, magari qualcuno perde gli occhiali e ha bisogno poi di quei soldi lì per rifarsi gli occhiali. E per quello che riguarda la vita sociale, vi dico che, ragazzi, sarà ben, ben appagante e non sarà elemento di disturbo per tutto quello che state cercando di creare qui. Anzi, sento come se vi alleggerisse, vi desse nutrimento in un certo senso. Il fatto di frequentare già, anche se, per esempio, foste in data parto, nel prossimo semestre, non sento che vi isolerete molto, nonostante il nuovo progetto. Anzi, avrete ben piacere di condividere questa gioia con gli altri. Se non è il bambino, ripeto, è un progetto, è una nuova idea, un'iniziativa. Ok, andiamo a vedere con un koan. Diciamo che l'unico momento in cui potrei sentire la luna è forse qui con il giudizio, perché me lo richiama. Però, dire che ho momenti cupi, momenti tristi, ma no. Sì, ci può essere questa perdita economica, questa perdita di qualche sicurezza, per qualcuno un imprevisto sulla casa, magari, o per qualcuno, ragazzi, vi dico che potrebbe esserci questo cambio lavorativo di cui accennavo prima, o vostro, magari, cambio di studi, cambio percorso di studi dei figli. Insomma, c'è qualche spesa imprevista che un po' vi farà stare alle strette, quindi, prima di spendere soldi impulsivamente o compulsivamente, cercate di farvi prima un polmone, un cuscino d'appoggio, ecco, a livello economico. Va bene, andiamo a vedere un koan. Se cammini, cammina, se sei seduto, siedi, ma non esitare. Che carina. Quindi, se decidete di andare avanti, andate avanti. Se decidete di non andare avanti e di stare fermi, state fermi e sedetevi, però prendete una decisione. Effettivamente, con questo caro al contrario, c'è parecchia indecisione per quello che riguarda un cambio di lavoro o un cambio di situazione. Nel quotidiano, siccome per qualcuno anche può risuonare con la casa, può essere che siate lì per decidere se cambiare casa, se cambiare lavoro, se spostarvi con la casa più vicini al lavoro, per esempio. E questo crei qualche dubbio. Attenzione alle proiezioni con la luna. però qua vi dicono anche nel caso in cui decidiate di non muovermi, di non muovervi, di prendere tempo e quindi di procrastinare, ok, però sedetevi, non rimanete lì impalati, no? Fondamentalmente, fate qualcosa. Va bene. Ragazzi, fate qualcosa, c'è anche l'asso di bastoni, qualcosa farete. È proprio la carta dell'azione. Quindi, vi sento proprio carichi, ben pimpanti, pieni di amore con qualcuno che potrebbe ritornare dal passato, la chiusura dei vecchi cicli di sofferenza è come un capitolo nuovo della vostra vita, ragazzi, anche se siete già in una relazione. Amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti come vi risuona. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. se avete piacere potete anche abbonarvi ma se fate difficoltà a trovare il tasto abbonati vi dico che potrebbe dipendere dal modello del telefono, dalle impostazioni che avete voi sul canale di YouTube oppure dagli aggiornamenti del telefono. Potete comunque provare ad entrare da un altro video se nella schermata principale non lo vedete o differentemente vi consiglio di provare da un'altra macchina quindi o da un altro telefono o direttamente dal computer. Dal computer si dovrebbe vedere. Bene. Ragazzi grazie per essere stati qui con me vi auguro un inizio 2024 splendido vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.